Carissimi amici ed amiche, benvenuti sul canale. C'è molta fibrillazione per il caso di alice neri e molte persone intervengono sull'argomento, anche nei commenti. Qualcuno in modo molto oculato, altri in modo insomma non tanto preparato, diciamo così, perché in questi casi si rischia di parlare per luoghi comuni. Oggi un po' di chiarimento l'ha fatto l'Avvocato Ghini, ospite di Mattino 5. Diciamo che gli elementi fondamentali oggettivi di questa vicenda al momento sono che il DNA di cui si è tanto parlato non è attribuibile, non è un dato attendibile, che allo Stato non risulta che comunque l'olio esausto sia stato usato per dar fuoco alla macchina, che da un filmato di circa undici giorni prima, c'è un filmato di una festa tunisina, proprio lì ai laghetti, con questa tanica usata, spostata e usata anche come sgabbello, e l'ultima cosa oggettiva è che il gnoto 1 probabilmente è l'assassino, perché a distanza ormai di un po' di tempo, resta sconosciuta la traccia del DNA forte, del DNA pieno di gnoto 1, che è presente sulla spallina, a 11 metri dalla macchina, indice di una scena del crimine violenta, una spallina strappata, presa con forza perché la traccia è evidente, e per cui non essendo questa traccia di nessuno degli indagati ufficialmente, è molto probabile che sia la traccia dell'assassino, del vero assassino che quindi non è attualmente in carcere, invece come abbiamo sentito dall'avvocato Ghini, si sta andando un po' in una sola direzione, e vengono ignorate altre piste, ieri si è discusso molto di questo DNA, che è un DNA allo stato non attribuibile, non compatibile, in quanto sono stati individuati pochissimi marcatori, su 23 marcatori necessari, sono stati individuati chi dice 9, chi dice 9, chi dice 10, in maniera oltretutto molto degradata, per cui è impossibile attribuire questo DNA ad alcuno, e fa male sentire invece l'annuncio stampa, dato, fatto circolare, un po' così, come dato sicuro. ora, poi alla luce anche di questo video, che insomma è stato visto, è stato fatto circolare, noi vediamo come pochi giorni prima, quel posto si è stato frequentato, per una festa, un barbecue, una grigliata, fatta lì di sera, con questa tannica usata come scabella, quindi non avrebbe nemmeno alcun tipo di significato. Il significato c'è là invece, quel DNA sulla spallina, è la traccia indubbiamente dell'assassino. Vedete, in trasmissione a mattino 5 è stato fatto di sentire anche l'intercettazione al Marco Cucui, che sicuramente avrà pensato di essere intercettato, per cui si è guardato bene da riferire tutto il contenuto di quella serata. Però, qualcosa è uscito fuori, egli spontaneamente, senza che venisse sollecitato da alcuno, in questa intercettazione, dice sì, c'era questo ragazzo, che lui chiama Marocchino, lì vicino alla macchina, che fumava lo spinello, ma, dice, può essere stato quella sera, non lo so, anche una persona che ci aveva seguiti, una persona che aveva, su Alice, un'attenzione morbosa, e fa due ipotesi, uno di uno cosiddetto stalker, lo chiama, cioè un collega della UAM, che l'avrebbe più volte impostunata, stalkerizzata, e poi anche il cosiddetto del suo uomo, l'innominato, che, insomma, aveva una frequentazione assidua con lei, e addirittura, è stato visto, era stato visto litigare, con la moglie, nel parcheggio, proprio perché, evidentemente, la moglie, aveva, scoperto, insomma, questa, questa relazione, ora, per scaricare, nessuno vuole tirare dentro, diciamo, ciò che la procura ritiene, non implicato, però, adesso, non ci sono più scuse per non farlo, ma, come questa persona, come altri, noi, ci troviamo di fronte, a un, DNA, limpido, comparabile, che deve essere comparato, appunto, con, tutti, io direi tutti, i dipendenti della UAM, tutti, i conoscenti, i familiari, tutti, perché, certamente, essendo un DNA, buono, proprio in quella, quella posizione, sulla, sulla spallina strappata, del Gesino, certamente, non può essere, uno del tutto, fuori dalla vita, di Alice, ed è significativo, anche perché, essendo un DNA, pregnante, non è un DNA, degradato, che si può far risalire, a diversi giorni prima, poi, basti pensare, che, normalmente, tutti i giorni, si cambia, questo tipo di biancheria intima, quindi, va da sé, che non possiamo, nemmeno supporre, che lei, fosse, tre, quattro, cinque giorni, che, non cambiasse, eh, questa biancheria intima, ma, d'altronde, lo testimonia, anche il marito, Nicolas, che, dice, appunto, che, quella mattina, prima di uscire, lei, aveva cambiato, insomma, il reggisena, quindi, è una prova provata, questa, quindi, la svolta è questa, allora, invece, di enfatizzare, questa, che è l'unica, notizia, attendibile, forte, forte, che sta emergendo, invece, si, si enfatizza, la notizia, di questo, questa traccia, del DNA, degradato, che, potrebbe essere, attribuibile, ma, ma, non si sa, secondo, quali criteri, visto che, i mascatori, presenti, sono, del tutto, inutili, per poter attribuire, la paternità, ad alcuno, io, non lo so, se, vi è buona fede, in tutto ciò, o, se, vi possa essere, malafede, e vi dirò di più, il fatto che, all'inizio, si diceva, ci sono due DNA, sconosciuti, su questa spallina, del, del, del giseno, mi aveva fatto, suscitare, delle perplessità, perché, allora, si doveva pensare, che, se fossero state, due DNA, ignoti, che, questa ragazza, avesse subito, un'aggressione, multipla, cioè, di, di più persone, invece, poi, con il chiarimento, che, una, apparteneva, a un carabiniere, che, evidentemente, l'avrà, toccata, nel momento, della ripestazione, è rimasto, fortemente, soltanto, un DNA, e, quella, potrebbe essere, la firma, l'avvocato, guini, si, si, si dispiace, che, vi sia stata, questa fuga, di notizie, anche, inesatte, lui, dice, che, c'è la volontà, di non seguire, altre piste, io, non voglio, credere, questo, però, almeno, non dico, da parte, della procura, ma, certamente, da parte, di, certa informazione, si spinge, in questo senso, qua, vedete, poi, avvocato, guini, ha sottolineato, un altro elemento, che, io, già avevo detto, ieri, che, alla fine, possiamo, anche, pensare, che si stia parlando, del nulla, perché, perché, non c'è, nessun elemento, chimico, da, da, per lo meno, fino ad oggi, che si conduca, l'utilizzo, di olio esausto, di quell'olio esausto, per incendiare la macchina, ora, non so, se, nei prossimi giorni, emergerà qualcosa, ma, in tutti questi giorni, da ripetuti esami, non è emerso niente, quindi, ad oggi, possiamo essere pure smentiti domani, ma, ad oggi, noi diciamo, possiamo dire, che, quell'olio esausto, non è stato usato, per incendiare la macchina, quindi, di cosa stiamo, parlando, alla fine, di cosa stiamo parlando, di nulla, vedete, quindi, stiamo proprio parlando, di nulla, gira, di gira, da cosa si ritorna, si ritorna, all'unico elemento importante, il DNA di ignoto 1, sulla spallina strappata, vedete, è importante, perché, si immagina la scena, della ragazza, che evidentemente, stava semi svestita, che, possiamo pensare, a qualcosa, nato nell'auto, è lei, che, apre la portiera, per un disperato tentativo, di fuga, altrimenti, la spallina strappata, in macchina, stava in macchina, tutto al più, stava, proprio, vicinissimo, alla macchina, e secondo me, sarebbe stato, anche bruciato, tutto dal fuoco, un altro dato, che emerge, su cui, volevo riflettere, che, questo posto, è diventato, una sorta, di Gardaland, cioè, nessuno conosceva, nessuno conosceva, questo posto, si diceva, è un posto, sperduto, che, se non sei di là, se non sei proprio di lì, non ne sai la conoscenza, ora, noi sappiamo, che era frequentato, da, diverse persone, facevano i barbecue, facevano le grigliate, andavano a fare le passeggiate, andavano a pescare, tante coppiette, andavano lì, per appartarsi, insomma, centinaia e centinaia di persone, quindi, come poteva, essere sconosciuto, forse, anche Alice, lo, lo frequentava, non era, quindi, come è stato detto, nei primi tempi, tempi posto sconosciuto, ed un'altra riflessione, che voglio condividere, con voi, se questo era un posto, soprattutto, frequentato, dalle coppiette, allora, per quale motivo, dopo che, il Galulla, è entrato in macchina, hanno fatto dei giri, quella, poi si sono andati ad appartare, in via Forel, perché andare via Forel, quindi, penso, abbastanza distante, insomma, e non sono andati ad appartarsi lì, cioè, nella zona dei laghetti, dove, dove, c'erano, c'erano, è un luogo dove, dove vanno appunto, queste coppiette, perché sono andati invece altrove, è qualcosa, su cui riflettere, perché, vuol darsi pure, che, si volesse andare lì, poi magari, fosse proprio Alice, a dire no, perché lì magari, era un posto dove aveva appuntamento, dove si doveva venire con qualcuno, dove poteva sdivare qualcuno, dove era andato con qualcuno, qualche, un posto, diciamo, non di estrema sicurezza per lei, è questo che, mi viene in mente, altrimenti, a livello proprio logico, non si riesce a capire, nel momento in cui, ti vuoi appartare un'oretta, per stare, insomma, in intimità, non vai nel luogo dove, di solito si va, e vai in un luogo, non so, distante, un chilometro, due, quant'è, per quale motivo, è qualcosa, su cui riflettere, forse, hanno preferito andare lì, in un posto diverso, per non causare il rischio, che, qualcuno potesse, potesse, insomma, sorprendere. Poi, ci sono queste modalità, vedete, questo, io sto pensando da giorni, a questo fatto, del colpo messo, nel portabagagli, poi, il colpo messo nel portabagagli, è, eh, un colpo nascosto, un colpo nascosto, e, fa pensare, all'incendio appiccato, in, epoca successiva, magari nel pomeriggio, questo mi frulla, per la testa, ma, eh, anche, anche mi è stato, stamattina proprio, mi è stata, illuminata un'altra idea, io stamattina, stavo, proprio, parlando così, con, una, una mia terapista, una, massaggiatrice terapista, di nome Rossana, che, non, non segue specificamente, questo caso, però, a un certo punto dice, quella ragazza, se, è stata, incendiata, nel, 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 nel baule, questo, è un, tipico, comportamento, camosistico, della malavita, camosistico, in particolare, questa, questa, questa ipotesi, mi ha, un po', illuminato, perché, lei mi diceva, se una persona, agisce d'impulso, o una moglie, gelosa, o un, un marito, un uomo, furioso, commette l'atto, e scappa via, oppure, incendia, a, a, dopo aver fatto ciò, si tende a scappare, quasi subito, non si ha, ecco, la freddezza, di fare, altro, invece, chi ha una mentalità, di tipo delinquenziale, di tipo camosistico, delinquenziale, organizzativo, ha, anche la freddezza, dopo aver ucciso, di, mettere, il corpo nel baule, per fare in modo, di ritardare, quanto più possibile, il ritrovamento, il risiconoscimento, e dare fuoco, poi, all'auto, quindi, è un qualcosa, come dire, che presuppone, un livello, di delinquenza, superiore, a quello, della improvvisazione, che è tipico, di, un impeto, di una gelosia, e questo, mi ha fatto, molto pensare, non voglio fare, riferimenti specifici, chi ha capito, ha capito, però, dico che, effettivamente, chi ha fatto questo, l'ha fatto, con un criterio, organizzativo, però, oggi, abbiamo, appunto, una, qualcosa in più, vedete, non si brancola, nel buio, la scienza, porta, spesso, alla soluzione, del caso, mi sembra, quasi, di fare, un passo indietro, per il caso, di Massimo Bossetti, vedete, mi sembra, tornata, a quei tempi, c'è un ignoto uno, voi ricorderete, no, quando si cercava, l'assassino, di Yara Gambirasio, da un, da un DNA, abbondante, all'epoca, non si sapeva, a chi attribuirlo, furono fatti, delle campionature, a migliaia, a migliaia, a migliaia, di persone, finché, incrociando i dati, si arrivò, a Massimo Bossetto, e non voglio, per carità, innescare polemiche, fra coloro, che dicono, sì, no, però, però, lo dico io, in questo caso, finalmente, dopo tanto buio, emerge, una traccia, inequivocabile, e, e perché, dico, io mi chiedo, perché, invece di fare, titoli, tipo, ignoto uno, lui è l'assassino, si dice, il, il tunisino, si stringe il cerchio, attorno al tunisino, un'altra prova, trovata, della sua responsabilità, non è corretta, secondo me, questa informazione, perché, perché si parla, della sigaretta, la neo, quella sigaretta, trovata lì, con il, il DNA, misto, e prevalente, di Alice, si dice, ah, allora, lui stava lì, con lei, e io ho spiegato, per l'ennesima volta, che, per carità, tutto è possibile, ma non è detto, che stava lì, con lei, perché quella, quella piccola traccia, mista, è compatibile, senz'altro, col fatto, che, lui è stato un'ora, con lei, si saranno baciati, sicuramente, quindi, la saliva, resta, parzialmente, nella bocca, della vittima, che lo trasferisce, sulla sigaretta, quindi, non è detto, che stava, che stava là, con lei, poi, apparti il fatto, che, non capisco, la dinamica, di una persona, che, sta un'ora, ferma, non succede niente, poi vanno di là, non succede niente, a un certo punto, uno esce pazzi, impazzisce, dopo un'ora e mezza, che si è stato insieme, uno impazzisce, uccide, incendia, addirittura, a meno che, non sia, un killer, professionista, voglio dire, poi, qualcuno dice, poi, ci sta la prova, contro, qual lullo, del DNA, sul borsello, sul borsello, sono stati insieme, in macchina, vedete, c'è una malafede, sottile, in queste cose, qualcun altro dice, però, c'è traccia, di petrolio, di, 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 idrocarburi, sul borsello, però, anche qui, si è malafede, perché, qui, parliamo di, non di macchie, noi parliamo di, una diffusa, presenza, di idrocarburi, dappertutto, all'interno, all'esterno, del borsello, su tutti, che, molto probabilmente, è l'esito, della, della lavorazione, di questi prodotti, cinesi, che, vengono trattati, trattati, molto a livello, chimico, questo è, poi, esce fuori, una traccia, di, dna, molto vecchio, molto degradato, che non si può attribuire, ad alcuno, non è attribuibile, non è compatibile, e si passa, come traccia, di galola, apri, decido, si è chiusi il cerchio, questo perché, secondo la mia impressione, questo per, come se si volesse mettere, a tacere, come se si volesse mettere, in ombra, quella che è, la vera notizia, cioè, che c'è, il gnoto uno, che, è, l'assassino, perché, quella è la traccia, inequivocabile, perché, poi, alla fine, esce fuori, che, quant'anche, ci fosse, un DNA, in ipotesi, su questa, tannica, ma lì, era un posto di mare, facevano le feste, festini, insomma, si, il barbecue, grigliate, veniva utilizzata, anche per, come sediolino, come sedile di fortuna, di che cosa stiamo parlando, poi, alla fine, esce fuori, che ad oggi, quest'olio di sausto, non è stato usato, per dar fuoco alla macchina, quindi, voglio dire, uno avrebbe toccato, il, la tannica, però, poi, senza usarla, per, per mettere, per mettere l'olio, per incendiare, ma poi, vedete, è tutto ridicolo, quello che si vuol dire, perché poi, anche le, le impronte, dattiloscopiche, non ce ne sono, quindi, io credo che, qualcuno stia, in malafide, nel diffondere, delle notizie, che, non sono, del tutto, oggettive, si bisognerebbe dire, è stata trovata, una traccia, che si tenterà, di, ampliandola, in qualche modo, di vedere, se si può attribuire, a qualcuno, ma non partire, con questa notizia, che non è, affatto, esatta, e nemmeno, significativa, parliamo, invece, della, traccia, forte, compatibile, quella traccia, confrontabile, del DNA, ma voi capite, che significa, una traccia, di questo genere, una mano, forte, che strappa, che strappa, questo reggiseno, questo, questo reggiseno, strappato, a 11 metri, dalla macchina, a 11 metri, dalla macchina, quindi, questo è, insomma, il senso, di questo ragionamento, di oggi, quindi, credo che siamo, in continuo, divenire, su questo ragionamento, e, quindi, vi prego, ecco, di analizzare, bene, tutti i dati, che vengono, fornite, di fare, un'analisi, critica, perché noi, abbiamo bisogno, che, alla fine, in carcere, ci vada, il colpevole, e non, che, ci vada, uno, perché, c'è una teoria, colpevolista, qui non c'è, nessuna teoria, del colpevolista, qui c'è, un dato certo, magari, si è parlato, molto, di questo, innominato, di questo, terzo uomo, che, come dice, l'avvocato Chini, sicuramente, non sarà colpevole, non sarà, che ha fatto qualcosa, ma, tanto, non ha detto, tanta, ha omesso, anche i compostamenti, tenuti, parliamoci chiaramente, da lui, come, come da Marco Cucui, di, di cancellare, di fuggire, di scappare, di, non, di non cercare, di cancellare i numeri, di non rispondere a nessuno, non sono atteggiamenti normali, ma voi pensate, amici miei, ma, come è possibile, ma mettetevi nei panni, di questi signori, no, a voi, ad esempio, vi muore, vi muore, una più, quale amica che avete, no, un'amica proprio, vi muore, che sapete che l'hanno uccisa, qual è il vostro istinto? Quello di, credo, di dare solidarietà, innanzitutto, alla famiglia, e di essere dispiaciuti, non è che vi mettete, a cancellare, il numero di telefono, qualsiasi contatto sui social, di non rispondere più a nessuno, c'è qualcosa che non va in questa, no, c'è qualcosa che non torna nel ragionamento, per come mai volete giustificare, questi comportamenti, solo per dire, no, il tunisino sta in carcere, non vogliamo sapere più niente, no, no, mi tappo gli occhi, la bocca, tutto, non voglio sapere niente, no, dobbiamo andare avanti, quindi, vediamo, analizziamo, confrontiamo, prendiamo questo DNA di ignoto, confrontiamolo con le prime mille persone, che potevano ruotare intorno alla vita di Alice, vediamo cosa ne esce, è inutile stare attaccati a una traccia di DNA, che non è attribuibile a nessuno, sulla tannica, che poi viene utilizzata un po' da tutti, e che è addirittura questa tannica contenente dell'olio, che ad oggi non risulta nemmeno usato per incendiare la macchina, di che cosa parliamo? Se ci saranno novità, ovviamente, e credo ce ne saranno, io ve ne darò conto, ne ragioniamo insieme, in maniera sempre oggettiva, e mi dispiace, invece, per chi posta dei ragionamenti, su rettizi, per per difendere un qualcosa, che non ho capito bene cosa, dobbiamo andare avanti per la verità, poi esca fuori questa verità, esca fuori la verità, perché non è possibile che questo possa diventare un altro caso senza soluzione, nessuno lo vuole, nessuno lo vuole, non deve essere così, grazie amici miei, grazie di seguirmi, contando sempre con molto affetto, siete sempre più numerosi, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima, ciao! ciao!